Con una nota, il comitato di quartiere Badia-Santa Croce pone l'attenzione sul problema della carenza di loculi al cimitero Anceli. Risponde l'assessore comunale competente, Cettina Andaloro. Più che di servizio io parlerei di un momento di difficoltà degli uffici. E' vero che dobbiamo appaltare i nuovi loculi comunali, ma non è stata una mancata sensibilità verso questa particolare situazione. E' successo che quasi per un anno ci siamo ritrovati in una situazione al di là della nostra volontà. Devo dire, per privacy non dico cosa, però devo dire che non è stata tutta colpa degli uffici. Adesso finalmente stiamo arrivando al prologo di questa situazione. Abbiamo affidato, a fine mese si procederà alla nuova costruzione di questi nuovi loculi comunali. Saranno 370, mi pare, e faremo anche per questa volta il bando per l'affido di questi loculi comunali. Abbiamo già affidato, abbiamo incaricato il direttore dei lavori, abbiamo affidato la gara alla gitta Deg di Capodici di Mussomeli, che ha già acquistato la gabbia per le fondamenta, i prefabbricati per costruire loculi. Quindi a breve, penso entro a fine mese, affidiamo i lavori e si procederà all'esecuzione di questa costruzione.